Lascia il like e iscriviti nei prossimi 5 secondi se anche tu vuoi avere tutti questi V-Bucks 5, 4, 3, 2, 1, tempo scaduto Tra 21 giorni finalmente l'Epic Games ci distribuirà questo bundle di skin Delta Plano Mimetica e Moth gratuitamente per tutti i possessori del Pass Battaglia Infatti la skin Predatore sarà riscattabile facendo delle sfide Scrivete nei commenti se vi piace la skin Predatore oppure no E soprattutto se ancora non avete il Pass Battaglia e lo volete shoppare codice creatore NAXX mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella e condividete questo video a tutti quanti i vostri amici E ovviamente se volete scoprire altre ricompense gratis cliccate uno dei video che vedete ora a schermo per rimanere aggiorati sulle ricompense gratis e le news di Fortnite